Lamentiamo il fatto che comunque la nostra scuola è fra dei migliori, se non la migliore in assoluto delle isole, a livello strutturale, a livello di tutto, perché comunque abbiamo la palestra e la nostra scuola è l'unica di odata di palestra per esempio, abbiamo anche spazi per giocare, abbiamo il parco giochi, abbiamo di tutto e sinceramente mi piace di chiudere una struttura di questo genere, perché chiaro è che se oggi si chiudono le scuole medie e domani piano piano chiuderanno le elementari e diremo ciao, addio alla nostra scuola e non è nostra volontà. Le argomentazioni che vi muove il dirigente scolastico vi convincono? Lui chiaramente ha i suoi per carità e assolutamente nella legalità ci mancherebbe, lui chiaramente dice non ci sono i numeri, non ho i numeri, non ho che farli. Noi d'altro canto diciamo anche che se si volesse forse si potrebbe anche ovviare a questo problema, insomma si potrebbe gestire in maniera diversa, spostare pianoconte da noi, non lo so. Va bene! Grazie.